Bentornati alle colonne d'Ercole. Allora, la domanda che ci facciamo oggi è questa. Perché una produzione e un regista che ha la possibilità di chiamare a scrivere la colonne sonore del proprio film, se non il più grande compositor di colonne sonore della storia, uno dei tre più grandi in assoluto, poi ci rinuncia? Questo è l'argomento di oggi. Oggi parliamo delle regecche di discordia e il mio moricone. In passato abbiamo visto che il fenomeno della regecche di score, cioè di quei compositori anche importanti, anche molto importanti, che vengono chiamati a comporre una colonne sonora e che poi vengono sostituiti da altri compositori, perché evidentemente il lavoro che hanno fatto per tutta una serie di ragioni non è stato ritenuto, non voglio dire di livello, ma insomma comunque adatto a quel progetto. Abbiamo visto appunto che un fenomeno che si verifica spesso, quasi tutti i professionisti del settore, è capitato almeno una volta, anche a me è successo naturalmente, mi è successo in entrambe le posizioni, quindi sia di essere quello che viene sostituito, sia di entrare in corsa e di sostituire. Però insomma qui parliamo di esseri umani. Quando parli della stratosfera, come Dianio Moricone, ti chiedi veramente ma cos'è che non ha funzionato? Senta presente che i progetti di cui parliamo oggi vanno dal 95 al 98, quindi con Moricone già nella sua piena maturità, il compositore conosciuto a livello mondiale che tutti emiravano e che tutti apprezzavano e che tutti volevano, a noi non per niente, insomma a quei tempi faceva tantissime colonne sonore, non come quelle che scriveva negli anni 70, se avete visto gli anni folli di Dianio Moricone, se ne avete visto andatevelo a vedere, vi lascerò un paio di link in descrizione alla fine, però comunque sia un compositore assolutamente richiestissimo. Il primo episodio di cui trattiamo oggi è La Lettera Scarlatta, film del 1995, diretto da Roland Joffé, che una decina di anni prima aveva fatto con Moricone niente proprio di meno che Mission, quel capolavoro di film e di colonna sonora che è Mission, che se non è la più bella colonna sonora di Moricone, anche lì credo che siamo nelle prime tre, nelle prime cinque, insomma, perché di una bellezza e di una fantasia, di un'arte e di un'aderenza con l'immagine è veramente impressionante. Ma non solo, dopo Mission erano stati fatti altri due film in cui Joffé e Moricone avevano collaborato, quindi insomma questo qua era già il quarto film, quindi il rapporto era già perfettamente consolidato e tutto lasciava immaginare che insomma sarebbe arrivati all'ennesima collaborazione proficua e fruttosa. E invece stavolta no. Vediamo cosa è successo. Ripeto, siamo nel 1995, il film La Lettera Scarlatta con Gary Oldman ed Amy Moore e la presenza di Moricone sembra automatica, non solo perché, come ho detto prima, è il quarto film che lui e Joffé fanno insieme, ma anche perché nelle temp track, quindi nelle musiche temporanee messe appoggiate sul film del montatore, così per cominciare ad avere una vaga idea dell'ambito sonoro nel quale ci si voleva muovere, vengono messe le musiche di Mission, come dire, quasi come a evidenziare insomma che era fatale, che sarebbe stato lui il compositore. E invece qui Joffé e Moricone non si capiscono. Moricone fa una serie di proposte, non scrive tutta la corna sonora, però comincia a scrivere i provini, comincia a fare delle proposte e queste proposte non piacciono. Ora, di per sé, anche con un genio come Moricone e anche con un grande professionista come Joffé, per amore del cielo, può succedere che non ci si trovi, che non ci si capisca, a volte anche collaborazioni di lunga data possono non portare a un risultato efficace nei primissimi tempi, pensate solo a quello che era stato il tema di Amarcord che Rota aveva fatto quasi all'ultimo dopo una giornata intera che lui e Fellini cercavano una musica e non trovavano la musica giusta per il film Amarcord e poi guardate che tema meraviglioso è stato scelto. Quindi al netto di questo può succedere insomma che la prima proposta, che la prima proposta del compositore non sia particolarmente gradita al regista e può anche essere, io ne conosco, ci sono anche tanti registi che anche se apprezzano la prima cosa che li fai sentire, comunque ti chiedono di meglio o comunque ti chiedono dell'altro, vogliono essere sicuri di poterti spingere al massimo perché molte volte ci si può anche accontentare perché c'è appunto un grosso nome come compositore, ti fa un buon tema, una cosa gradevole che funzioni, molti registi potrebbero dire vabbè insomma alla fine perché stare a rompergli le scatole più di tanto, va bene questo qua, invece tanti registi invece ti dicono no no, spingi, dai di più e poi eventualmente possono sempre tornare indietro al piano originario. Invece in questo caso non succede, Joffè pressato dalla produzione e quindi forse qui c'erano anche delle dinamiche extra musicali, rifiuta la colonna sonora, non gli piace o quantomeno dice che non gli piace e ripeto che questo potrebbe ancora stare. La cosa strana è che non viene chiesto a Morricone guarda sta cosa qui non ci ha convinto facci delle altre proposte. Viene quindi passata la palla a Elmer Bernstein, compositore che già abbiamo visto in un altro puntato delle colonne d'Ercole e che è un grandissimo compositore, un grandissimo professionista, che però al contrario di Morricone, se Morricone aveva appena scritto, aveva accennato dei temi, aveva fatto dei provini, insomma ma certo ma il lavoro era ancora in fase embrionale, Bernstein scrive tutta la colonna sonora, la scrive l'orchestra e la registra a Dublino, 90 minuti di colonna sonora, quindi non parliamo di un provino così buttato lì e fatemi sapere se vi piace. Colonna sonora bella, finita e registrata. Non solo, mentre sta registrando la colonna sonora a Dublino, gli capita di essere a Londra a pranzo con John Barry, i due erano amici, si conoscevano da tanti anni, si stimavano e qui c'è uno strano scherzo del destino, insomma, perché mentre praticamente loro sono a cena, i produttori e il regista cominciano ad ascoltare le cose che Bernstein sta registrando e non sono per niente soddisfatti del lavoro. E quindi praticamente c'è questa cosa un po' strana, per cui quando John Barry torna a casa riceve una chiamata dal produttore e dal regista che gli chiedono se vuole subentrare al volo. I tempi sono stretti, quindi gli dicono che rifiuteranno la colonna sonora di Bernstein, in questo senso Barry lo viene a sapere prima di Bernstein che la colonna sonora di Bernstein non sarà accettata e non verrà utilizzata nel film. E quindi lui si trova un po' in difficoltà. C'è però un particolare, perché viene chiesto a John Barry? Perché Demi Moore, la protagonista del film, due anni prima, nel 1993, aveva fatto un film che fu di grande successo, Proposti Indecente, probabilmente ve lo ricordate, con le musiche di John Barry. Ed è Demi Moore stessa a chiedere alla produzione di rivolgersi a John Barry, perché molto contenta del lavoro che aveva fatto Barry su Proposti Indecente, dice, è lui, è lui l'uomo giusto, proponiamolo a lui. Cosa che viene fatta, John Barry ha solo 5 settimane di tempo per scrivere la colonna sonora, considerate che una va via per scrivere e per fare il provino, per registrare il provino, quindi poi rimarranno solo 4 settimane, andranno cambiati ovviamente anche tutti i poster che erano già usciti, c'era già il dato uscito del film, c'erano già i poster con il nome di Bernstein sopra, e quindi ovviamente andrà tutto ristampato, ma questa cosa è ancora il danno minore, e quindi poi John Barry porterà a casa una buona colonna sonora, oggi non parliamo di questo perché oggi il focus è su Rejective Score di Morricone, magari domani faremo una puntata appositamente solo sulla colonna sonora dell'Ettra Scarlatta. Anche qui ci possiamo chiedere, ma come? Hai scelto Morricone? Hai eliminato Morricone? Hai scelto Bernstein che comunque, come dire, era un solido professionista, a mio modo di vedere, non della grandezza di Morricone, ma voglio dire un solido e stimato professionista, con non so quante centinaia di colonna sonora al suo attivo, eppure la colonna sonora che fa Bernstein viene ritenuta troppo leggera, e non abbastanza aderente a quella che era la drammaticità del film. Ma ovviamente chi conosce Morricone, insomma, e il suo carattere anche spesso spigoloso o fumantino, insomma, sa che questa cosa lo indispettisce parecchio, insomma, ecco, soprattutto, disse lui, non fu indispettito dal fatto di non aver avuto una seconda chance. Passeranno solo tre anni, che in una carriera sessantennale come quella di Morricone, alla fine sono una piccola parte, e Morricone si troverà di nuovo nella stessa situazione. E il 1998 il film in questione è Al di là dei sogni, con Robin Williams, film che ebbe un buon successo commerciale, ma non abbastanza da coprire tutto il budget che era costato, che erano circa 80 milioni, insomma, che era un signor budget nel 98. Mentre però nel 95 Morricone aveva appunto scritto dei temi, dei provini, insomma, aveva imbastito, ma non aveva certo fatto la colonna sonora. Qui il lavoro è completamente diverso, perché Morricone scrive una score completa, e anche, io non l'ho ascoltata, ma mi hanno detto persone di cui mi fido che l'hanno ascoltata, di ottimo livello, molto, molto bella, appunto, in vista tematico, dal punto di vista anche della drammaturgia legata ai personaggi, insomma, quindi molto, molto bella. In più riutilizzò, ma lo faceva, insomma, relativamente spesso, un tema che aveva usato per un film che si chiamava L'Assoluto Naturale, di tanti anni prima, e quindi riprenderà quel tema e lo porterà in questa score. Ma cosa succede? Abbiamo detto tante volte che il compositore, quando riceve il film per scrivere la colonna sonora, teoricamente il film dovrebbe essere, il montaggio dovrebbe essere chiuso, il film dovrebbe essere quello. Sì, magari si può fare ancora qualche piccolo cambio, qualche cosa qua e là, ma insomma, vi ricorderete anche quando parliamo della colonna sonora di Alien, del povero James Horner, che continuava a cambiare il montaggio, per cui lui le cose che scriveva, ovviamente, non andavano più bene, insomma. Però, ecco, questa cosa ogni tanto succede, ed è quello che succede in questo caso. Per cui, praticamente, dopo che Morricone ha scritto già tutta la colonna sonora, e la sta già anche registrando, quindi, ovviamente, quando si registra, è, insomma, finché si sta scrivendo, poi ci si può adattare, ma quando si registra, è, si registra su quell'immagine. Poi, anche nel tempo, anche nella fase storica precedente al digitale, si potevano fare delle correzioni, dei tagli, degli aggiustamenti, prendere, sistemare, però, insomma, è chiaro che adattare una musica non è come scrivere una musica su un'immagine, evidentemente, adattarla per un'immagine rispetto a quella che era stata pensata, magari su un'immagine diversa, o con un montaggio diverso, o con un ritmo diverso. Quindi, questo cambio di montaggio è un cambio di montaggio sostanziale, tanto sostanziale da cambiare tutta la, come dire, la necessità di sync che ci sono nella colonna sonora che un compositore scrive, ma cambia proprio il sapore del film, cambia completamente la narrazione che viene fatta, perché voi lo sapete, spesso e volentieri, cambiando il montaggio, inserendo scene che magari sono state tagliate, eliminando delle altre scene, con gli effetti, insomma, si può cambiare completamente il sapore di un film. Ed è quello che succede in questo caso, per cui si troveranno con delle musiche che erano state scritte per un film, e che su questo, tra virgolette, nuovo film, nel senso, tanto diverso nel montaggio e nelle intenzioni e nella narrazione da quello che era stato dato a Morricone per scrivere la colonna sonora, è chiaro che la colonna sonora che era scritta a Morricone non c'entrava più niente. Quindi anche in questo caso la colonna sonora verrà rifiutata, rigettata, e si affiderà la scuola a Michael Kamen, che fece un ottimo lavoro, insomma, da serio professionista qual era, assolutamente, quindi però sicuramente un lavoro diverso da quello che avrebbe fatto Morricone. Per cui tutto questo per dirvi, soprattutto, cari compositori in erba, che queste dinamiche succedono a tutti, tutti i livelli. È chiaro che quando, insomma, si viene sostituiti per qualunque ragione la situazione avvenga, che sia una questione personale, di scarso finico regista, perché viene ritenuto che la musica sia troppo qualcosa o troppo poco o qualcos'altro, oppure perché si ritiene che sia stata un'idea estetica o stilistica del regista e del compositore differente, o perché il regista ha cambiato idea, questo succede, l'abbiamo raccontato molte altre volte, che si decide, ok, facciamo una colonna sonora di questo tipo e poi in corsa il regista, spesso e volentieri, più spesso che volentieri, prestato alla produzione, si trova con la necessità di inserire magari delle canzoni o una colonna sonora che prima era stata pensata come orchestrale, quindi classica, si vuole qualcosa di più elettronico, e insomma, e quindi è ovvio che il lavoro che è stato fatto non è più adatto. Prima di chiudere, la domanda che già so che i compositori stanno facendo, va bene, ma quando viene rifiutato una colonna sonora, quella vecchia, viene pagata o no? Dipende, se c'è un contratto, la colonna sonora viene pagata naturalmente, quindi comunque il compositore, ancorché non vedrà il proprio nome e la propria musica sul film, comunque il disturbo gli verrà pagato. Se invece, e spesso e volentieri, noi lavoriamo senza contratto, perché molte volte il film ha delle urgenze, per cui se ha produttore che regista e ti dico, guarda, guarda, presto, 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 e poi magari mancano ancora tanti e tanti mesi al release cinematografica, e ci sarebbe stato tutto il tempo di fare le cose con calma, e soprattutto di aspettare il contratto. Però molte volte, un po' per la fogo, un po' per dimostrarsi disponibili, un po' per voler fare i problem solversi, dici, ma sì, va bene, tanto comincio a lavorare, poi il contratto me lo manderete. Insomma, vi ricordate, ancora abbiamo parlato del rapporto pessimo di Stravinsky col cinema nelle serie dei compositori colti e del loro rapporto quasi sempre disastroso col cinema, avete visto che anche il povero Stravinsky aspettava il contratto, aspettava il contratto, nel frattempo lavorava, e a un certo punto gli hanno rifiutato la scuola, e il contratto non era mai arrivato, per cui lui è rimasto anche, come dire, col cerino in mano, diciamo così. Era da un po' di tempo che noi facevamo un video sul mondo delle colonne sonore, ma ci sono state una serie di altre, come dire, scadenze e di situazioni che mi hanno portato a spingere un più su altri generi. Ho comunque in programma molti video di colonne sonore, che parleranno di colonne sonore nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e soprattutto uno speciale riferito alla notte degli Oscar, insomma. È ancora un po' presto, ma insomma, cominciate a segnarvela in agenda. Ci vediamo alla prossima.